Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Questa mattina sono diretto a Fossa Cesia, paese, in provincia di Chieti. Ho detto paese per distinguerlo da Fossa Cesia Marina. Il paese è un borgo medievale, è un borgo antico, che adesso andremo a visitare e farò il solito reportage. Io ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al mio canale e ringrazio anticipatamente tutti coloro che decideranno di farlo dopo aver visto questo video. Ho visto che il mio canale sta crescendo e sono veramente soddisfatto. È gratificante per me e io ringrazio veramente di cuore tutti coloro che mi seguono e continuano a seguirmi nel mio progetto di far conoscere il nostro bellissimo territorio. Arrivederci amici e a più tardi. Io e il mio amico siamo appena arrivati a Fossa Cesia, paese, ed ora iniziamo subito a realizzare il solito video. Facciamo il solito tour. Monumento ai caduti. Chiesa del Santissimo Rosario. Chiesa del Santissimo Rosario. Europea ecco la famosa fontana delle cinque cannelle e qui troviamo la piazzetta dei lettori molto molto interessante qui c'è una piccola libreria con diversi libri all'interno ecco è aperto e bellissima quindi si prende un libro ci si siede alla panchina e si legge e poi lo si rimette al suo posto bellissima iniziativa chiesa san donato martire e 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 questo è il monumento dedicato alle vittime civili per la pace e la libertà questo monumento è stato eretto il 4 dicembre 2003 adesso andiamo a visitare il santuario l'abbazia di san giovanni in venere sempre appartenente al comune di fossa cesia in provincia di chieti e si tratta di uno dei santuari più belli da brusso su un promontorio a ridosso del mare e 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 ora ci apprestiamo a visitare la cripta in questa cripta l'illuminazione è scarsa per cui non garantisco la riuscita del video faccio quello che posso fare per farvi vedere questa meraviglia e 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